Abbiamo un governo fascista? C'è un governo itleriano, un governo di suprematisti bianchi che parla di sostituzione etnica? Benvenuti a Progetto Zia, oggi parleremo del tema della settimana, la sostituzione etnica. Cos'è e in che modo la si interpreta, se esiste o se non esiste. Il termine sostituzione etnica in realtà è una categoria che indica almeno tra quattro diversi possibili paradigmi. Per qualcuno è il processo per il quale gli europoidi nel mondo stanno diventando sempre di meno. Per altri, più precisamente indica che in molti paesi, soprattutto europei, l'immigrazione selvaggia sta modificando il volto delle città e il futuro demografico di un continente o delle singole nazioni. Secondo altri è un complotto finalizzato fisicamente a eliminare i bianchi in quanto tali e invece, alla posizione opposta, secondo altri è un ulteriore complotto che serve a giustificare posizioni razziste. Prima di partire, in realtà, invito alla pacatezza e alla calma quando si affrontano questioni, nel senso che non tutte le posizioni devono per forza venire radicalizzate e soprattutto bisogna avere la coscienza di sapere che alcune posizioni di oggi che appartengono ai nostri avversari possono diventare le nostre in futuro o posizioni nostre possono anche evolvere nel tempo. Questo lo dico perché mi pare che non appena uno utilizzi un termine relativamente non mainstream come sostituzione etnica diventa immediatamente identificato come un potenziale assassino o, al contrario, dall'altra parte, se qualcuno si dichiara a favore dell'immigrazione diventa immediatamente uno schiavista. Le cose sono più sfumate. Io faccio un esempio, penso a Scalfari, ad esempio, il fondatore di Repubblica, forse il più grande intellettuale progressista italiano, grande in senso quantitativo ovviamente, che in realtà durante il fascismo, quando iniziava la sua carriera come intellettuale era un giornalista, era un razzista di prima categoria, parlava dell'importanza della purezza, della razza italica, eccetera, eccetera, che casualmente, peraltro, ai tempi era la posizione che serviva ad un intellettuale per fare carriera, ma oggi, decenni dopo, oggi no perché è morto, ma negli ultimi decenni della sua vita invece, al contrario, è stata la grande guida dei progressisti, di chi era a favore di una visione più meticcia e multiculturale, a riprova che si possa evolvere, anche in questo caso, curiosamente, la posizione che poi serviva ed era più comoda ad un intellettuale per fare carriera in quest'altro tempo, ma probabilmente questo è un caso. In merito alla genealogia del termine della categoria sostituzione etnica, in realtà non vi voglio dilungare, poi vi lascerò più sotto un bel articolo di Scianca, che invece è più didascalico, e spiega bene questo percorso. Diciamo che, secondo alcuni termini sostituzione etnica, è un termine inventato dal sociologo francese Camus, più noto, o perlomeno noto al grande pubblico, perché nelle ultime elezioni era un potenziale candidato, concorrente, rivale della Le Pen, poi la cosa non andò in porto, però in realtà ho ascoltato alcune interpretazioni di altri giornalisti, quelli che amano indagare, e hanno anche forse una pulsione un po' morbosa, che sono andati a citare David Huck e altri teorici della destra radicale americana. Difido molto da questa interpretazione, nel senso che può anche essere che qualcuno nella destra radicale americana, in un concetto molto più multiraziale e con 30-40 anni di anticipo rispetto all'Europa, avesse utilizzato il concetto, l'idea di sostituzione etnica. Tuttavia ho grossi dubbi che quell'uso di quella categoria sia lo stesso uso che fa un partito, un rappresentante di un partito della destra conservatrice moderata europea, per due ragioni. Prima perché la destra conservatrice europea non ha nulla a che fare con la destra radicale americana, ma perché in realtà la destra radicale americana non ha praticamente influenza sul mondo della destra europea, neanche radicale, tantomeno quella più moderata e conservatrice, perché la destra europea ovviamente ha sempre pescato da una propria cultura, da un proprio riferimento, da una propria tradizione, che è molto più ampia di quella americana e in larghissima parte la nomea e l'importanza della destra radicale americana, suprematista, razzista, è data quasi esclusivamente dai film e dai giornalisti stessi di sinistra che hanno questa passione per andare a rimangare, ma pochissime persone nel mondo della destra radicale europea hanno confidenza con le categorie e le riflessioni del mondo radicale anglosassone che non è particolarmente considerato. Diciamo però che, a netto di questo mio particolare dubbio, la questione della sostituzione etnica, a mio avviso, va inquadrata quantomeno in termini definitori. Ecco, cioè esiste un qualcosa attorno al quale fare chiarezza prima e a partire da questa chiarezza poi forse si può discutere di sostituzione etnica. Dobbiamo intenderci se esistono gli italiani come etnia, cioè come risultante di vettori biologici, culturali, geografici, storici. Perché se esistono gli italiani come etnia, allora ovviamente ne discende logicamente che un sistema di governo, di potere politico o economico che tenda a fare spatriare gli italiani e a sostituirli con mano d'opera proveniente da altri paesi, da altre etnie, stia effettivamente facendo un processo di sostituzione etnica. E quindi che di per sé questo processo esista, sì, ovviamente, a partire dalla premessa precedente. D'altra parte, se si afferma che non esistono le etnie, le razze, le nazioni, qualunque forma di identità che non sia strettamente culturale, ci si addentra in un gineo pariologico non facile. Tanto per cominciare bisognerebbe disintegrare quindi tutte le università che si occupano di etnografia, la psichiatria etnica, eccetera, 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 che già mi sembra una posizione un po' eccessiva. E inoltre, peraltro, se portassimo al confine estremo questo modo di approcciarsi in realtà, cioè se negassimo che esiste un qualunque dato genetico, biologico, etnico, storico, culturale, per identificare, scusate, non culturale, per identificare un insieme di persone rispetto a un altro, ma che tutto sia posto e culturale, allora dovremmo chiederci se esistono, ad esempio, afroamericani bianchi, e la posizione sarebbe dubbia, visto che non dovrebbe esistere nessuna correlazione tra la loro pigmentazione e la loro storia. Oppure, ad esempio, se non esiste nessuna forma che non sia culturale posta in scelta di suddivisione della popolazione umana, bisognerebbe chiedersi come si fanno a giudicare eventi della storia per i quali noi solitamente troviamo un colpevole o una vittima, no? Cioè, se diciamo che gli americani hanno compiuto il più grande olocausto della storia, eliminando milioni di nativi, ma se non abbiamo un contenuto etnico che separa i nativi dagli statunitensi, ed è solo una questione culturale, a questo punto, come facciamo a essere sicuri che abbiano identificato e chi stiamo identificando. I nativi non potevano semplicemente dire siamo anche noi statunitensi, era solo una questione amministrativa, mi sembra una posizione un po' debole. Oppure, se i tedeschi hanno compiuto l'olocausto nei confronti degli zingari e degli ebrei, se non esiste una cultura etnica e quindi un certo grado di oggettività attorno al termine ebreo, attorno al termine zingaro, ma è fluido e culturale, come hanno fatto gli ebrei a essere identificati così chiaramente dai tedeschi o gli zingari a non diventare tedeschi. Mi sembra che, evidentemente, storicamente e fattualmente, in qualche modo, il concetto di etnia abbia un proprio contenuto. Se esistono queste identità, se esiste il concetto di etnia, o postuliamo che esistono tutte tranne quella italiana, o se esiste quella italiana, a questo punto può anche esistere un processo che tende a ridurre gli italiani in Italia. Eventualmente, questo processo non esiste, ma non è che non possa esistere, quindi non è assurdo il concetto di sostituzione etnica. Inoltre, è sciocco sostenere che il riconoscere il processo dica qualcosa della posizione politica che si ha sul processo stesso, nel senso che un conto è riconoscere che esista o possa esistere la sostituzione etnica e un conto è essere a favore o contrario della stessa. Ad esempio, la destra conservatrice sostiene, non sono sicuro che lo sia, di essere contraria alla sostituzione etnica, ma nessuno vieta che si possa anche essere a favore. Ad esempio, sono abbastanza sicuro che per buona parte delle femministe più radicali in Occidente, in particolare in Italia, il maschio italiano sia il peggiore possibile di tutti i maschi e che se dovesse venire sostituito da maschio di qualunque altra etnia, sarebbe preferibile in maniera simmetrica al fatto che, ad esempio, posso presumere che nella comunità in sel ci sia anche qualcuno che sia moderatamente a favore della sostituzione etnica. Se, come loro credono, le donne italiane sono le più pretenziose, progressiste e meno affidabili, a questo punto dovrebbero essere a favore del fatto che ne arrivino di qualunque altra etnia. Io, ad esempio, sono moderatamente a favore della sostituzione etnica. Ritengo che esistano segmenti della società italiana, in particolare il centro intellettuale italiano che è il più provinciale e il meno preparato e il più asservito che io credo di conoscere e sarei completamente a favore di sostituire il 100% dei giornalisti italiani con pari numero di africani, giapponesi, cinesi, chi vi pare. Ecco, quindi, ad esempio, il fatto che io riconosca che esista un processo di sostituzione etnica non significa che io ne sia tut court contrario. Esiste invece un processo, altre due contrargomentazioni attorno all'idea di sostituzione etnica. C'è chi dice sì, esiste, ma non possiamo chiamarlo sostituzione etnica come se fosse qualcosa di negativo perché in realtà noi importiamo lavoratori, questi lavoratori ci servono ed è una posizione. L'altra grande contrargomentazione è che è quella più diffusa oggi in realtà, perché è quella più memata, più semplice, più utilizzabile per impedire la nascita del discorso e quella che dice no, è un altruore complotto. Partiamo dalla prima. Se questi lavoratori ci servono, che è una posizione politica perfettamente accettabile, contraria alla mia, ma che ha una sua legittimità, a questo punto quindi l'immigrazione e il processo di sostituzione etnica è il risultante di una decisione politica. A questo punto però, come c'è qualcuno a favore, non si può presupporre che buona parte dei lavoratori italiani percepiscono di non avere nulla da guadagnare da questo ingresso di manodopera che in generale non può che abbassare il valore della manodopera italiana e in particolare e in particolare apre anche alcune questioni etiche ad esempio è noto che ricorderete qualche intellettuale italiano dire che i neri ci servono gli africani ci servono perché nessuno vuole raccogliere il pomodoro a tre euro io ad esempio sono contrario allo schiavismo che tengo una delle forme più basse di organizzazione umana e quindi sono contrario a questo processo per me se abbiamo bisogno dell'immigrazione tanto per cominciare dovremmo garantire le stesse condizioni sociali e salariali che non garantiamo in realtà che cerchiamo di garantire ai lavoratori italiani in questo modo già scopriremo che il centro capitalistico italiano tutto un tratto sarebbe contrario perché se deve pagarli come gli italiani non avrebbe più alcun interesse probabilmente in questo senso invece mi rendo conto che in Italia la posizione dello schiavismo è una posizione che ha la sua legittimità e quindi c'è qualcuno che dice no a me va bene che esistano delle persone che muoiono di fame e raccolgono i pomodori a 3 euro all'ora o 3 euro al giorno e quindi e gli danno anche copertura politica e quindi sono a favore di questo processo tuttavia ecco va benissimo l'importante è sapere che quindi è un processo politico e quindi c'è qualcuno che può avere una posizione contraria non è un'atrio di complotto e non è qualcosa di inaudito che qualcuno sia controllo schiavismo il merito è il fatto che sia un'atrio del complotto invece qui è più facile no non è un'atrio del complotto perché un'atrio del complotto presuppone che ci sia un qualche tipo appunto di complottista dietro in realtà o di complottatore cioè di colui che genera il complotto ma in realtà io non ho ancora conosciuto nessuno che pensa sinceramente che sia un grande vecchio che vuole portare i bengalesi in Italia e vuole mandare gli italiani fuori dall'Italia è la risultante di un processo politico economico che riguarda in particolare i settori più marginali e decotti del capitalismo che pensano di poter allungare la propria vita produttiva risparmiando sul costo dei lavoratori e come tale non può essere un complotto perché è un processo storico il problema è che come tutti i processi storici può essere in qualche modo inquadrato imbrigliato politicamente e a chi dice no è un processo storico sono sempre accaduti non si possono fermare dice un falso storico nel senso che il fatto che una cosa sia sempre accaduta non implica che non la si possa in qualche modo normale politicamente imbrigliare in una forma sociale faccio un esempio è sicuramente vero che nella sua complessità la violenza fa parte dell'essere umano tuttavia è un fatto che tutte le società umane hanno sempre cercato con alterna fortuna di regolare la violenza con il quale l'essere umano si interfaccia con gli altri esseri umani esistono diverse strade alcune più funzionali di altre ad esempio paesi dalla bassissima immigrazione come il giappone sono paesi con un tasso di violenza molto più basso rispetto a paesi come gli Stati Uniti che godono della fortunata condizione di essere multiculturali e multinaziali oppure ad esempio sempre per stare all'interno degli Stati Uniti i paesi o gli Stati come la Georgia dove è molto diffuso l'utilizzo e il possesso legale di armi da fuoco hanno un tasso di violenza e di omicidio per armi da fuoco molto inferiore alle città o alle realtà invece per le quali si è scelto di vietare e di rendere illegale il possesso di armi da fuoco come Detroit o come New York e pertanto quindi certo la violenza in sé è ineliminabile dall'essere umano ma questo non vuol dire che tutte le strade sono equivalenti certo che il fenomeno immigratorio e un certo tipo di scambio etnico è sempre storicamente accaduto tuttavia se esistono paesi che lo subiscono di più e paesi che lo subiscono di meno significa che esistono delle strade politiche per rapportarsi al problema detto questo vi lascerò sotto un paio di articoli che a mio avviso sono interessanti sulla questione ma sono curioso di sentire la vostra esiste per voi la sostituzione etnica e soprattutto se esiste va sposata va normata o va accettata in quanto fatto storico oppure può essere come dire un fattore positivo un processo positivo in alcuni ambiti e un processo negativo in altri detto questo vi ringrazio e ci vediamo alla prossima razzia